ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora guardate che meraviglia allora oggi siamo qui con il primo regalo di natale che mi ha fatto martina mi ha fatto tre regali stupendi fantastici meravigliosi e oggi cominciamo da lei da stella morro jr dalla seconda serie wow 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 grazie mille a martina ole 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 cuore non messo a fuoco e oggi vediamo lei perché non vedo l'ora di aprirla perché è bellissima molto bene pomettino si è messo in rosa giusto pomettino per perché lei è tutta rosa anche lei fucsia quel cavolo che è è già molto molto bene allora direi subito di vedere la scatola qua c'è il suo disegnino molto bello con la coroncina che devo ancora capire la coroncina se è cucita se è attaccata se si può staccare se non si può staccare per il fatto come si dice dallo shampoo perché secondo me il test dei capelli sarà completamente ingellata poi è tutta fucsia rosa bellissima e dietro vediamo chi si vede allora si vede stella si vede bella e si vede a maia e non si vede più nessuno molto molto bene vediamo anche che non ha così tanti vestiti addosso effettivamente però adesso la levo dalla scatola così facciamo il test dei capelli e incominciamo a capire un po soprattutto il fatto della coroncina molto bene allora levata dalla scatola si vede praticamente perfettamente anche le calzine le scarpette ma le guardiamo dopo adesso ovviamente test dei capelli o che bel fucsia anche il pettinino non ho parlato apposta avete sentito ve lo faccio risentire proprio da vicino incredibile da quanto gel hanno messo qui in alto non sembra ma qui c'è ci hanno dato dentro di brutto qui è allora abbiamo i plastichini qui abbiamo i plastichini nei capelli dietro la testa nello zainetto cos'è nello zainetto è una borsa ma sembra una borsa boh vado a levare i 150.000 plastichini attaccate a questa bambola ok allora eccola lì mi sono anche accorta di aver finito gli stand di scorta diciamo per le junior bla 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 così quindi per il momento sta in piedi così a bella appoggiata allora che cosa arriva con lei arriva questo pettinino qua fucsia glitterato molto molto bello e poi lo zainetto con la borsina cos'è una borsina com'è che si apre soprattutto ok praticamente si tira e dentro c'è la carta però lasciamolo pure chiuso perché tanto poi lo metto via sì è uno zainetto barra borsina molto bello allora c'è dentro questo pucsia che punta un po' su lilla secondo me non so che colore non capisco che colore questo poi c'è un po' di rosa chiara un po' di rosa scuro le dettagli oro molto bene eccoli qua vedete tutto dietro con un po' di nero molto bello mi piace moltissimo questa parte qua dietro molto molto bella da sopra così sotto così e lo mettiamo qui vicino a pomettino poi allora stavo guardando la coroncina la coroncina si muove ok e a quanto pare ha un buco però io ho paura a tirare perché è molto delicata non è così dura vedete che si muove quindi dopo quello che è successo al cappello di mara pink decido appunto di lasciare sulla coroncina lei farà lo shampoo con la coroncina su sarà un po' più complicato però non voglio rischiare perché la coroncina è molto bella e poi se la rompo ci remerei molto male se la rompessi comunque si dice che ne so poi ha due codini qui che poi le leverò ecco si si glieli levo e gli lascerò i capelli molto scialli poi vediamole i capelli mi sembrano uguali a quelli di stella c'è il rosa un po' più chiara sì ovviamente lei è stella però avete capito l'altra fucsia e delle ciocchettine con il rosa un po' più chiaro e poi sembrano belli mossi devo dire che i capelli dritti li trovo un po' scomodi perché con il mosso si notano meno i difetti secondo me tipo i capelli di violet io non li so capire lei ce li ha dritti ma io non riesco perché si gonfiano si si smollano non lo so per farvi un esempio poi vediamo il trucco allora il trucco come l'altra lo scopriremo dopo quando le metteremo vicine qualche macchiolina ma va bene ha qui un po' di arancino poi una riga un po' più scura il liner e un po' di rosa qualcosina delicato sulle guance e poi questo rossetto rosa scintillante bellissimo guardate che sciccheri poi tanto che ha le mani qui ha lo smalto di un rosa molto molto chiaro che il telefono non vale mai dare a fuoco come non detto si è visto o non si è visto guarda ok qua si vede che figure che mi fa fare questo telefono poi ha su semplicemente un vestitino molto molto pio pio niente giacchettina niente sciarpina niente cinturina solamente questo vestito tutto bagliettoso con qua due nastrini sempre fucse molto molto carino ma ci sta ci sta molto carina poteva non so mettergli una sciarpina qualcosa vabbè tanto poi gliela levavo quindi chi se ne prega poi vediamo cosa c'ha sui piedi vediamo che coloro sono le mutande fucsia ok guardate che scarpettine guardate il tacco che dettagli che ha wow c'è dentro l'oro ovviamente il rosa e anche il bianco dettagli qui e anche le calzine non capisco se sono oro o argento hanno gli scintellini sia oro che argento bellissimi sotto oro e tutto fucsia molto molto carina molto molto bene quindi adesso che cosa facciamo tolgo i codini e le andiamo a farlo shampoo e poi la mettiamo vicino all'altra stella per vederle ovviamente tutte e due vicino se il trucco è uguale perché sinceramente non me lo ricordo e vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' con calma ovviamente qua non devo farle niente al vestito perché c'è già solo questo su e mi piace molto bene molto bene molto bene allora i capelli che sono venuti via adesso ve li faccio vedere ecco qui e poi ho tagliato un puntino proprio alla fine quindi niente di che poi pensavo che era molto 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 più difficile lavare i capelli con la coroncina invece non è stato così complicato molto bene tanto foto di rito very well adesso le tamponiamo i capelli e poi la vediamo vicino a stella normale molto bene molto bene molto bene eccoci qui guardate che bella inquadratura tutta tutta fucsia molto molto bene allora adesso l'ho messa sullo stand per fare questa parte di video che ho rubato a Skyler eccola qui vicino a noi mettiamola qui allora 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 avviciniamoci allora vi prima faccio vedere i capelli che comunque ovviamente essendo mossi li lascio così e poi pian piano si asciugheranno ci vuole qualche giorno adesso ora che si asciugano e la coroncina è rimasta qui molto molto bene e non le farò più niente ai capelli come si asciugano si asciugano very very well poi avviciniamo lei per quanto riguarda il trucco è diverso aspettate eh tira giù le braccia così ti avvicini ecco qua vedete lei ha dentro l'arancio invece lei ha un trucco meraviglioso rosa qui tre strisce di rosa più liner bellissimo bellissimo poi lei ha la riga sulla bocca che non mi piace per niente però non fa niente le hanno fatte così le prime e va bene infatti poi adesso penso che non lo facciano più meno meno male e anche le sopracciglia lei ce le ha un po' più scure lei ce le ha un po' più chiare gli occhi gli occhi sono leggermente diversi ma proprio leggermente secondo me poi qua c'è il neo lei è scintillante abbastanza lei no però devo dire che sono belle bellissime tutte e due mi piace molto che le hanno tenuto lo stile della stella questa qua più grande perché tipo quella di karma non so perché le hanno fatto un outfit molto molto sportivo non ho ancora ben capito questa cosa infatti non vedo l'ora di trovare qualcos'altro da metterle su però invece lei mi piace che le hanno tenuto proprio questo il vestitino i sandalini tutto così bello tutto così molto molto sciccoso perfetto e niente poi per il resto non c'è niente da mettere a confronto se no lei ha sullo smalto bianco e lei sta sullo smalto rosa però devo dire che sono davvero molto molto contenta di questa stella perché è stupenda ok non ho visto nessun grande difetto a parte una macchiolina qui ma chi se ne frega della macchiolina quindi ottimo un po' la gamba qui storta ma chi se ne frega quindi sono molto 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 contenta è bellissima Pomettino ti piace sei soddisfatto si molto molto bene mi fa piacere Pomettino allora lei sarà molto più riccioluta adesso che sto guardando molto bene molto bene così si differenziano anche un po' adesso la spostiamo perché il suo momento è finito perché la protagonista oggi è lei abbassiamo un po' molto molto bene molto molto bene quindi mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questa stella junior ora ringrazio ancora Martina perché è bellissima e vi ricordo instagram e link amazon giù nell'info box pomettino saluta bravo io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao